Terra Mara, anticipazioni della lunga puntata di sabato 16 settembre dove vedremo la tragica fuga di Zuleia ed Ilmas. È mattina ed è ora della colazione a casa di Fecheli, ma Fikret non mangia con la famiglia dicendo che deve andare subito in ditta per gestire un lavoro urgente. Invece si reca nel suo ufficio segreto. Quando più tardi anche Ilmas si reca in ditta, Cetin gli riferisce che Fikret non è andato al lavoro ed ha gestito tutto lui. Fikret nel frattempo sta parlando con qualcuno di Istanbul e lo informa che la famiglia Yaman possiede mezza ciukurova, ma la cosa strana è che Ilmas abbia venduto tutti i suoi possedimenti ad un caro Yaman, che è sempre stata una sua nemica. L'unica cosa che non ha venduto è una piccola villetta adiacente a Villa Yaman e che è sicuro che Fecheli non ne sappia nulla di questa vendita che ha fatto Ilmas. Quando Fikret si presenta in azienda, si giustifica raccontando che ha perso tempo per aver forato una gomma e non ne aveva una discorta, che purtroppo nessuno è passato di lì per aiutarlo e ha dovuto quindi camminare fino alla prima officina. Intanto, a Villa Yaman, Sani cerca Rashid, che non trova dal giorno precedente. Chiede a Fadik, ma neanche lei sa dove sia. Poco dopo, Fadik lo incontra nascosto fuori dal cancello della villa e le dice che Sevda lo ha licenziato. Le racconta di aver comprato un anello d'oro e averlo nascosto nella serra perché lei gli aveva detto che stava andando lì ad annaffiare i fiori. Però lo aveva trovato a Min, che lo aveva indossato e che non ha voluto ridarglielo. Sevda l'ha sentita urlare e l'ha visto mentre lui cercava di riprenderselo e quindi l'ha licenziato. Poco dopo Fadik racconta tutto a Sanye. Sevda, che ha ascoltato, interviene dicendo che l'ha licenziato perché non vuole un ladro in casa. Sanye le ribatte che lei è un ospite e non può farlo, quindi iniziano una nuova scaramuccia. Arriva Zuleya e Fadik e Sanye le spiegano cosa sia successo mentre Sevda le dice che Rashid ha spaventato a Min. In quel momento arriva a Min e Zuleya vede l'anello che indossa il dito e dice che non è uno dei suoi e quindi è vera la versione di Fadik. Zuleya dice a Sanye che Rashid doveva dirlo a loro che avrebbero risolto il problema, poi con una scusa riesce a farsi ridare l'anello da Min. Quando torna a casa Demir sente la storia e si arrabbia e rimproverà aspramente Sanye per l'accaduto. È sera tardi e Ilmas e Zuleya si incontrano nella boscaglia e lui le mostra i passaporti falsi di loro due e dei bambini. Poi le dice che è tutto pronto, anche la casa d'Amburgo e che per sviare le loro ricerche non andranno ad Istanbul ma partiranno da Ankara. Entrambi sono felici di poter vivere insieme dopo tanta sofferenza. Gaffur, dopo aver ascoltato lo sfogo di Sanye per i rimproveri di Demir e il comportamento di Sevda, le chiede di lasciarlo partire per la Germania e le promette che in meno di un anno potrà andare anche lei, ma Sanye non vuole. Gli dice che Unkar le ha lasciato il compito di vegliare sulla casa e non può tradirla. Proprio in quel momento li raggiunge Uzum che avendo ascoltato prega Gaffur di non partire. Lui la rassicura che non la lascerà mai ma che andrà in Germania solo per guadagnare tanti soldi e poi tornare a riprendere lei e Sanye. Uzum gli risponde che anche il suo vero padre è partito ma non è più tornato, ma Gaffur la rassicura che non potrà mai dimenticarsi di lei, ma Sanye le dice che comunque non lo lasceranno partire. Nel frattempo Bege dice a Mushgan che per il divorzio deve chiedere metà degli averi di Ilmas e di parlare con lui. Mushgan è titubante e allora Bege le dice che ne parlerà lei con Fekeli, ma Mushgan le risponde che ci penserà lei e che farà di tutto per il bene di suo figlio. Bege allora le prospetta che una volta avuti i soldi di Ilmas dovrebbe aprire una sua clinica che le permetterebbe di guadagnare moltissimo e che deve fidarsi di lei. Zuleya parla con Sanye che l'avverte di sbagliare a fidarsi di Sevda perché lei ha sempre voluto essere la signora della villa e adesso ci è riuscita grazie a Demir che non è una brava persona e se ne accorgerà dopo che avrà ottenuto il potere. Intanto in giardino ci sono i preparativi per la cerimonia in onore di un car che si svolgerà nella serata e Sevda e Charmin dirigono i preparativi. Finita la cerimonia Zuleya va in cucina e prepara una brocca di succo alla rosa e ci mette dentro una polverina bianca che le ha fornito Ilmas. Poi dicendo che lo ha fatto in onore di un car ne offre un bicchiere a Sanye, Gulten, Fadik e Rashid che lo bevono volentieri. Quindi va in salotto, lo offre a Demir e Sevda e anche Adamin. Dopo un po' tutti hanno improvvisamente sonno e vanno a dormire mentre Zuleya finge di avere sonno anche lei. È notte e Ilmas ha preparato Kerem Ali e con il rimpianto lascia la casa con il bambino. Anche Zuleya con i bambini sta lasciando la casa e si dirige verso la villetta dove l'aspetta Ilmas. Tutti salgono sulla sua macchina e si allontanano. Mentre Ilmas guida Zuleya gli dice che le sembra un sogno e lui le risponde che nessuno potrà più separarli. Mentre Ilmas e Zuleya sono in viaggio lui le dà delle foto che ritraggono un car con i bambini. Entrambi dicono che era una brava persona che aveva capito il suo errore e che la perdonano augurandole di riposare in pace. I bambini dormono tranquilli e Zuleya finalmente felice gli dice che lo stanno facendo anche per loro perché possano vivere in pace e in felicità. Intanto alla villa Demir si risveglia stordito e sospettoso corre in camera di Zuleya ma non trova né lei né i bambini. Inizia a gridare disperato accorre Sevda e Demir in lacrime le dice che Zuleya è scappata con i bambini e che lui non può vivere senza di loro. Zuleya ed Ilmas stanno viaggiando tranquilli parlano del loro futuro e lui le dice che quando saranno in Germania aprirà una nuova attività ma che prima deve prendere i soldi che ha nascosto. Quindi le racconta che ha venduto tutte le sue proprietà ad un car che gli aveva detto che voleva che i suoi nipoti crescessero in pace. Poi le confessa che si sente in colpa per Fecheli e che sa che non lo perdonerà mai. Mentre stanno viaggiando trovano un posto di blocco. Zuleya ha paura che li riconosceranno ma Ilmas le dice di stare calma. Un poliziotto si avvicina, ispeziona la macchina e avverte i colleghi che li hanno trovati. Vengono portati in procura e mentre sono in attesa lei gli chiede perché il destino è così cattivo con loro e non vuole che stiano insieme. Ilmas le risponde di prendersi cura dei bambini perché forse non si rivedranno più perché lui ucciderà Demir appena uscirà da lì e accetterà volentieri la pena di morte. Quando li fanno entrare nella stanza del procuratore vi trovano Fecheli e Mushgan. Fecheli gli dice che lui non è più suo figlio e di non chiamarlo più padre e se ne va via con Mushgan e Kerem Ali. Poi dal procuratore arriva anche Demir che è stato avvisato dalla polizia. Demir si avvicina a Zuleya e prende Leila in braccio poi si fa dare Adnan da Ilmas. Quindi si rivolge a Zuleya e le dice che può restare lì o andare con lui. Demir esce dalla stanza e Zuleya fa per andargli dietro ma Ilmas la ferma dicendole di calmarsi e che si riprenderanno i bambini. Zuleya però raggiunge Demir e sale in macchina con lui dopo aver scambiato un lungo sguardo con Ilmas. Quando Fecheli e Mushgan tornano a casa Fecheli è molto triste e dice a Fikret che per lui Ilmas era un figlio, lo ha sempre sostenuto, si è sempre fidato e invece lui se n'è andato senza dirglielo privandolo di lui e del nipote. Fikret gli risponde che ci deve essere un motivo per quello che Ilmas ha fatto. Fecheli però dice che lui era la sua famiglia e lo ha tradito e si ritrova ancora una volta senza famiglia e disperato. Poi gli dice che Allah gli ha mandato lui perché ha visto il suo dolore. Con il drammatico e toccante fallimento della fuga di Ilmas e Zuleya si chiudono queste anticipazioni di sabato. Io sono Stefania e come sempre vi aspetto nei commenti per parlare di quello che è successo nella puntata. Vi mando un abbraccio e vi invito, se non lo avete già fatto, ad iscrivervi al mio canale Chi è Cosa TV e al mio secondo canale Stefania Serie TV.